ciao ragazze bentornate nel mio canale oggi tutorial per san valentino ho deciso di realizzare il modulo infiniti ed eccolo qua ho realizzato il primo bracciale col modulo infiniti il secondo bracciale con tre moduli infiniti tutte e tre collegati tra di loro e poi ho creato anche la versione orecchino che è questa qui davvero molto carina materiali molto semplici che abbiamo tutte quante in casa ho sperimentato e questa è la mia proposta appunto per san valentino spero che sia di vostro gradimento lasciatemi un like un commentino se questa idea è di vostro gradimento io ovviamente nel tutorial vi spiego come realizzare sia il modulo infiniti sia come realizzare questa parte qui del bracciale volendo questa parte qui possiamo sostituirla con altre due varianti che vi spiego appunto nel tutorial vi lascio al tutorial e buona creatività ciao il materiale per poter realizzare il modulo infiniti è il seguente innanzitutto vado ad utilizzare i mezzi cristalli da 3 mm sono esattamente 10 mezzi cristalli da 3 mm se non le avete in casa potete tranquillamente utilizzare di bicono svaroschi da 3 mm oppure dei cipollottini da 2x2 mm che sono appunto quei cipollottini molto piccoli oppure potete tranquillamente sostituirli con dei cipollottini da 2x3 mm mi raccomando i 2x3 già i 3x2 secondo me sono un po' troppo grossi per questo tipo di lavorazione per quanto riguarda il filo per la versione bracciale ho utilizzato il filo migliocchi invece per quanto riguarda la versione orecchino ho utilizzato il filo fireline e questo perché per quanto riguarda l'orecchino volevo una maggiore stabilità e consistenza per quanto riguarda l'orecchino e quindi utilizzato il fireline e questo è appunto il risultato per quanto riguarda invece questo qui che il bracciale risulta un po' più morbido perché volevo appunto che che fosse tranquillamente morbido per seguire appunto la circonferenza del mio polso per quanto riguarda le perline ho utilizzato nella medesima colorazione le 8 le 15 e le 11 e queste qui sono appunto le permanent finish galvanized aluminium e poi ho utilizzato un'altra colorazione di rocaille 15 0 questo precisamente sono delle migliocchi ma voi potete tranquillamente sostituirle con delle tofo e queste sono le clac lava red vado a riprodurre un altro modulo per realizzare appunto il bracciale infiniti volendo il bracciale infiniti possiamo realizzarlo o con un solo modulo dell'infinito oppure possiamo tranquillamente realizzare tre moduli infiniti tutti e tre collegati tra di loro per realizzare un bracciale un po' più particolare e poi andare a realizzare i laterali del bracciale seguite passo passo il tutorial così vi spiego le varie varianti per poter realizzare sia gli orecchini e sia il bracciale con un solo modulo infiniti e sia quello con i tre infiniti tutti e tre collegati primo passaggio inserite sul vostro filo 18 rocaille 11 0 chiudete la lavorazione a cerchio rientrando in tutte le perline ed effettuate due nodini ed ecco qui il risultato effettuato appunto i nodini in questo punto e adesso rientro esattamente in due perline inserite una rocaille 8 0 sul vostro ago e rientrate nelle prime quattro perline tirate per bene il filo in modo che la rocaille 8 0 si va a posizionare perfettamente in mezzo appunto a queste rocaille 11 0 inserite quattro rocaille 11 0 sul vostro ago sul vostro filo e rientrate soltanto nelle ultime due rocaille 11 0 quindi rientrate in queste due ultime rocaille 11 0 e anche nelle due rocaille che vengono subito dopo e tiro il filo adesso inserite tre rocaille 11 0 sul vostro ago e seguite bene questo passaggio questa è la nostra base di due perline noi rientriamo prima con lago in questa perlina qui che è appunto una delle quattro in alto quindi mi posizione in questa sporgente e arrivato nuovamente nelle due della base queste due e in filo lago anche in altre due perline per ripetere nuovamente questo passaggio vedete quindi ho inserito esattamente lago in cinque perline una del della perline qui sporgente in alto e quattro della base e tiro il filo giro nuovamente il lavoro di nuovo tre rocaille sul mio ago inserite lago in questa rocaille qui sporgente laterale nelle due della base e in altri due della base quindi sempre per un totale di cinque perline e tirate il filo e questo è il risultato a questo punto mi rinfilo nella 80 inserite 18 rocaille 11 0 sul vostro ago ed eccole qua le 18 rocaille le portate tutte quante alla fine del filo e adesso rientrate nuovamente in tutte le 18 rocaille in direzione opposta in questo modo chiudete la lavorazione a cerchio quindi rientrate in tutte le 18 rocaille sono rientrata in tutte le 18 perline vedete e adesso rientro anche nella 80 andando verso il basso stringete per bene il filo in modo appunto da creare vedete il simboletto dell'infinito adesso vado a ricreare la medesima lavorazione che ho creato anche qui anche da quest'altra parte quindi mi rinfilo nelle prime 4 perline nelle prime 4 tiro per bene il filo inserite 4 rocaille 11 0 sul vostro ago rientrate in queste due ultime rocaille 11 0 e infilo lago in altre due rocaille 11 0 e tiro il filo adesso vado ad inserire 3 rocaille 11 0 sul mio ago ed eccole qua inserite lago nella perlina sporgente questa qui laterale per collegare il tutto nelle due della base e nelle due rocaille che vengono subito dopo quindi vado di nuovo a rinfilare lago in 5 perline quindi nuovamente questo passaggio 3 rocaille 11 0 rivado in questa perlina qui laterale sporgente in quelle due della base e in altre due rocaille 11 0 per un totale sempre di 5 perline vado avanti con la lavorazione fino ad arrivare a queste due perline ed ecco qua questo il risultato ho inserito anche l'ultimo modulo che è questo qui e mi sono rinfilato ovviamente nella perlina questa qui sporgente e poi in queste 4 rocaille 11 0 e in questa 8 0 qui centrale e come vedete adesso avremo il simbolo appunto dell'infinito con 7 moduli rho collegati da un lato e 7 moduli rho collegati da quest'altro lato come si capiscono che sono appunto tutti collegati perché questo è il primo modulo rho questo è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo modulo rho ovviamente è importante saper riconoscere qual è il primo modulo rho il secondo e il terzo così via dicendo perché ci serve per capire dove andare ad inserire il mezzo cristallo da 3 mm giro il lavoro per comodità e devo lavorare appunto prima questo lato quindi inserite una rocaille 11 0, una rocaille 15 0 e una rocaille 11 0 e inserite l'ago esattamente in questa rocaille qui che poi è sempre con la risporgente laterale del primo modulo rho in questo modo inserite l'ago anche in queste due rocaille 11 0 di questo primo modulo rho inserite una rocaille 11 0 sul vostro ago e rientrate in queste due rocaille 11 0 che sono appunto il secondo modulo rho tirate bene il filo di nuovo una rocaille 11 0 e vi infilate nelle due rocaille 11 0 del terzo modulo rho tirate per bene il filo mi raccomando inserite una rocaille 8 0 sul vostro ago e rientrate in queste due rocaille 11 0 che sono appunto il quarto modulo rho di nuovo una 8 0 e mi rinfilo nelle due rocaille del quinto modulo rho adesso una rocaille 11 0 e mi rinfilo nelle due rocaille del sesto modulo rho una 11 0 e mi rinfilo in queste tre rocaille 11 0 dell'ultimo modulo rho cioè il settimo ed ecco qua a questo punto inserite una 11 una 15 una 11 sul vostro ago e rientrate esattamente nella 8 0 centrale questo è il risultato adesso giro il lavoro per comodità in questo modo vedete e qui mi ritrovo davanti la 11 la 15 e la 11 a questo punto io fuoriesco appunto dalla 8 0 e mi rinfilo soltanto nella 11 0 questa la prima 11 0 inserita a questo punto inserite una 15 e una 11 sul vostro ago e rientrate esattamente in queste tre perline quindi rientro nella prima nella seconda e nella terza perlina del primo modulo rho ed eccole qua e tiro bene il filo inserite una 11 sul vostro ago e rientrate nelle due rocaille 11 0 del secondo modulo rho ed eccole qua di nuovo una 11 0 e rientrate nelle due rocaille 11 0 del terzo modulo rho vedete adesso inseriamo la 8 0 e rientriamo sempre nelle due rocaille 11 0 che vengono subito dopo di nuovo una 8 0 rientro nelle due rocaille 11 0 di nuovo una 11 0 e rientro nelle due rocaille del modulo successivo di nuovo una 11 0 e rientro nelle tre rocaille 11 0 adesso vado ad inserire soltanto una 11 0 e una 15 0 sul mio ago ed eccole qui e rientro con l'ago esattamente nella 11 vedete qui avevo inserito la 11 la 15 e la 11 rientro con l'ago soltanto nella prima 11 0 cioè questa e nella 8 0 centrale ed ecco qua la base del simbolo dell'infinito completata prima di andare avanti con la lavorazione e aggiungere i mezzi cristalli e andare a decorare il nostro simbolo dell'infinito voglio aggiungere un piccolo appunto per chi volesse realizzare un bracciale dell'infinito con tre moduli collegati quando va a realizzare appunto il terzo modulo che è poi quello centrale che va a collegare tutti e tre simboli dell'infinito quando andiamo ad inserire appunto le rocaille 8 0 da entrambi i lati non andiamo ad inserire le rocaille 8 0 ma andiamo a collegarci direttamente nelle rocaille 8 0 che sono già presenti sul simbolo dell'infinito completato quindi in questo modo andiamo a collegare tutti i vari simboli per andare a realizzare un bracciale con più simboli tutti collegati tra di loro vedete in questo modo così avremo tre simboli dell'infinito tutti collegati tra di loro e possiamo tranquillamente realizzare un bracciale un po' più elaborato oppure per chi volesse la versione semplice può tranquillamente realizzare un solo simbolo dell'infinito e poi andare a realizzare la fascetta adesso vi mostro come vado a decorare il simbolo dell'infinito per la decorazione mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa 8 0 qui centrale inserite sul vostro ago esattamente 4 rocaille 15 0 giro la lavorazione per comodità perché andremo a lavorare prima questo lato dell'infinito quindi giro la lavorazione saltate queste prime due rocaille 11 0 e vi rinfilate nelle da terza e quarta rocaille 11 0 che poi è esattamente quella che forma il primo modulo ro ovviamente le due rocaille della base quindi mi rinfilo in queste due rocaille 11 0 e questo è appunto il risultato adesso inserite una rocaille 15 0 un mezzo cristallo da 3 e una rocaille 15 0 mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da queste due rientro nelle due rocaille 11 0 che fanno sempre parte del primo modulo ro quindi rientro se io fuoriesco ovviamente da queste due rientro dall'altro lato in queste due rocaille 11 0 e tiro il filo ed ecco qui che la sequenza si posiziona in questo modo adesso sposto un attimo le perline mi rinfilo in questa perlina qui centrale che collega il primo modulo al secondo modulo quindi mi rinfilo in questa perlina qui centrale e ripasso anche in queste due rocaille 11 0 qui accanto del secondo modulo ro sempre quelle della base e quindi mi rinfilo in queste due rocaille inserite nuovamente la sequenza una rocaille 15 0 un mezzo cristallo da 3 e una rocaille 15 0 e rientrate sempre nelle due rocaille 11 0 in alto sempre del medesimo modulo e tiro il filo nuovamente mi rinfilo nella rocaille questa qui centrale che collega il secondo modulo al terzo modulo mi rinfilo nelle due rocaille 11 0 del terzo modulo della base inserite la sequenza una 15 un mezzo cristallo da 3 e una 15 e rientrate sempre nelle due rocaille 11 0 del medesimo modulo in alto in queste due ed ecco qua che abbiamo completato il primo lato perché vedete ogni lato è formato esattamente da 5 mezzi cristalli da 3 mm adesso ripasso nella lavorazione per andare ovviamente a creare anche quest'altra decorazione quindi mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da queste due rocaille 11 0 qui questa è l'ultima decorazione che ho inserito su questo lato mi rinfilo in tutte queste perline qui esterne alla lavorazione tutte le rocaille 11 0 di questo lato e mi rinfilo anche nella 15 e nella 11 mi rinfilo anche nella 8 0 centrale ed eccomi qua fuoriesco appunto dalla 8 0 e adesso rivado nelle perline interne di questo di questo modulo fuoriesco esattamente dalla sesta rocaille 11 0 interna vedete queste sono le prime 3 4 5 e sesta rocaille adesso mi rinfilo anche nella settima e nell'ottava rocaille 11 0 e tiro il filo osserviamo il lavoro vedrete che appunto fuoriesco dal secondo modulo in alto vedete questo è il primo e questo è il secondo modulo a questo punto inserite la sequenza una rocaille appunto 15 0 sul vostro ago un mezzo cristallo e una rocaille 15 0 ed ecco qui la sequenza mi ritrovo a fuoriescire da queste due perline e quindi rientro in queste due perline qui in alto sempre del secondo modulo rocaille 11 0 ed ecco qua che ho posizionato appunto la prima sequenza mi rinfilo nella perlina questa qui centrale che collega i due moduli mi rinfilo anche nelle due perline in basso della base del terzo modulo e inserisco nuovamente la sequenza ed ecco qua vedete davanti al filo ho due rocaille 11 0 una 15 e una 11 io mi rinfilo soltanto nella prima 11 0 inserite 6 rocaille 15 0 rosse sul vostro ago e rientrate direttamente nelle 4 rocaille 15 0 poste dall'altra parte della lavorazione questo è il risultato ho appunto completato la decorazione del modulo infinity adesso non ci resta che andare a realizzare i due laterali per poter indossare il bracciale infinity fuoriesco ovviamente dalla 8 0 inserite una 15 una 8 e una 15 sul vostro ago e rientrate nella 8 0 che viene subito dopo in questo modo abbiamo appunto fissato queste tre perline adesso ripassate all'interno della lavorazione quindi ripassate in prima in queste due rocaille 11 0 vicino alla 8 0 ripassate nella 11 0 questa centrale che va verso il basso ripassate in queste 4 rocaille 11 0 interne ripassate esattamente in 6 rocaille 11 0 interne della lavorazione risalite nella rocaille 11 0 centrale per ritornare appunto indietro nella lavorazione quindi rientrate nelle due 11 e nella 8 0 nella 15 e nella 8 ripassate appunto in queste perline inserite una 8 0 un cipollottino da 3 per 2 e una 8 0 sul vostro ago e rientrate nella 8 0 di partenza questa centrale ovviamente questa lavorazione vi consiglio di realizzarla con un filo monofilamento per andare avanti inserite solamente appunto 3 rocaille 8 0 quindi 3 rocaille 8 0 e rientrate nuovamente nel cipollottino andando in direzione opposta vedete in questo modo potete ripassare nuovamente in questo modulo quindi per andare a compattare quindi ripassate nelle 3 8 e di nuovo nel cipollottino per andare ovviamente a creare una lavorazione stabile e rinfilate l'ago nelle 2 rocaille 8 0 per andare avanti con la lavorazione quindi altre 3 rocaille 8 0 e rientrate nella 8 0 ripassate ovviamente in questa crocetta e potete in qualche modo alternare inserendo quella un cipollotto per dare un po' di lucentezza anche al cinturino oppure potete tranquillamente inserire soltanto le 8 0 un piccolo appunto per quanto riguarda il laterale del braccialetto una volta inserita la rocaille 8 0 il cipollottino e la rocaille 8 0 siamo appunto ripassate nella rocaille 8 0 nel secondo modulo sarà appunto modulo rho soltanto con 3 rocaille 8 0 poi il modulo successivo ancora il terzo sarà una rocaille 8 0 un cipollottino e una rocaille 8 0 così fino alla fine per quanto riguarda poi i laterali ho inserito una 8 0 qui un'altra 8 0 in quest'altro punto e poi qui dove è presente appunto il cipollottino andremo ad inserire una 15 una 11 e una 15 poi di nuovo 2 8 e di nuovo la sequenza 15 11 15 così per entrambi i due laterali poi alla fine del cipollottino ho inserito esattamente solo 5 rocaille 11 0 per andare appunto a realizzare il cappietto che poi ospita l'anellino per poter chiudere il bracciale stesso discorso anche dall'altro lato due anellini e poi il moschettone in acciaio ed ecco qui appunto i due bracciali infiniti completati questo è l'orecchino che vi mostravo all'inizio video in questo caso vedete ho inserito soltanto la rocaille 8 0 e poi in questa rocaille 8 0 ho aggiunto l'anellino e poi il perno volendo possiamo realizzare anche un braccialettino semplice in che modo utilizzare appunto questa rocaille 8 0 qui l'ultima andare ad inserire un anellino e poi una catenina in modo di realizzare un braccialettino semplice da entrambi i lati oppure possiamo realizzare una catena simile rosario in modo da andare a decorare anche il braccialetto in entrambi i lati e utilizzare appunto il modulo infiniti in modo semplice senza andare a fare appunto questa parte qui del bracciale il tutorial termina qui spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e la prossima con nuovi video ciao ciao